Ciao a tutti ragazzi, bello per l'ultimo video in un dato sensore Ah, ciao a tutti! Se mi volete seguire il canale Perdi Quindi è Allora, oggi faremo il pennino per l'ipod o ipod o ipod Adesso, dovete ascoltare la e la vabbè Credo che questo video è finissimo Golden Jumpy L'avrà visto e noi faremo quindi la vendita per il phone e hai guardato Allora, lo so Allora Allora, il mio canale si chiama Camila Ray Il primo video che ho fatto è stato Esperimento Uber che è un esperimento molto carino e poi è un'altra video di descrizione che è quello che vuoi lasciar stare a trovare che è andato LOL Allora, i due iscritti non vuole Vabbè Ehm 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 Un cangiato Ehm 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 Noo Ehm Va bene ragazzi Allora Ci serviranno un paio di forbici Spugna La spugna, noi l'abbiamo venuta a mirare No, intanto il pegnino dovrebbe venire così Però io posso spiegare il pegnino Questa qua, allora Ci serviranno le forbici, la spugna 5 iscritti Zitto Questa penna Allora, questa dovrebbe essere la penna Quella la tutta intera Ma non mi vado a rimettere Manco a me Vabbè, questa Noi leviamo questo pezzetto qua Che sarebbe Al cesso E poi ci servirà solo il pezzo di plastica Poi L'odore è la pusta Anche pure delle farmacie Sì Vai un po' a mio lato E poi va Sono praticamente andata troppo in là Non metteremo il video Che io non ho presi due Lo scotch Le forbici La spugna Che non l'abbiamo devita a metà E una busta Anche delle farmacie Le scotch Ovviamente Le scotch Io l'ho già detto Però Ragazzi miei Non facciamo Non facciamo Quindi io Non facciamo Ma siamo qua Vabbè Tanto le aprile le facce Ormai ce le diamo Tantino E poi Io metto La piccola telecamera Che diventano Tutto un po' di presentazione E eccoci qui Allora Cosa? 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 Vedevo via io Ah sì Vabbè vai Ok Ora spiegherà Come si fa? Giustamente Non si vede niente Quello che fa No Vabbè Allora Allora si vede La no No Qua sono registrati Tutorial Allora Allora ragazzi Per far Sì Per fare questa Piantina Pidiamo Ne tagliamo Pezzettini Aspetta Anche lo devo fare Con te Perché non lo può Capare Tagliamo Pezzettini Aspetta Va bene Sì Aspettare Come lo devo Tagliare Perché lo Tagliamo Poi Ovviamente Senza la parte verde Mi sono scordata Guardate che ci serve Anche la carta Questa qua La carta La carta La carta Spagnola Che bagaglia Ma non è un po' grande Il mio non c'è Non c'entra Guardate Se la voi Prendete Adesso noi dobbiamo fare Cos'è? Come? Dobbiamo ficcare La penna La penna Non capito Prendiamo le pollici Eh sì Prendiamo le pollici Se capisco Come Lo mettiamo Con quelle pollici Io faccio Tutte le spalle Lo mettiamo Così No Così No Ho le fatto Tutto Beh no Ragazzi Stiamo un po' in silenzia Perché mi sto Stare con 5 Oddio Ok Che faccio Va bene Ti vedo 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 Guardate I cani E tu No L'olio Dove sta arrivando No Vedete Ma Dove Un troll Prendete Prendete Staglionella Comunice Prendete La tratta Staglionella Ok Sì L'olio L'olio Io L'olio L'olio Io L'olio 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 E Prendete L'olio 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 a me per te dico proprio questa menina a me lo dico si vedete adesso a me con il suo video e a me non parla con il mio si rivola si rivola si rivola la mia menina come? guarda che si rivolge la mia menina e allora con il giampi e la mia menina a me la mia menina mi sono rivolante la mia menina che si rivolgono quando ho avuto a me 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 Ma bene qui? Sì Io sono povera Ma che stava? Sono ricco Marei, Marei, Marei Questa è lì Sempre se la trovo Ok Papà, se stai guardando questo video Ti auguro No, 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 no E' un po' di molle E' un po' di molle E' un po' di molle Loll Loll Sì Sì Oggi non so perché sono Lì, ma io No, no, no Loll Ora, ora che mi hanno rinestito quest'anno No, no, no Aspettami Adesso sto qua Cicci Ciccino Piccino Pico 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 ho fatto tante visualizzazioni grazie ragazzi se stessentano iscritti lui, magari io perché tanti non dà? no, vabbè allora, se stessentano iscritti vediamo con le due ultime Alessia è matto allora, io stavo finita vedo, sono tutti gli amici per sempre guarda te vedo, c'è ricordi già, ricordi già ricordi già, ricordi già e Alessio allora, vabbè Alessio non ti piace allora, allora gli risponde ricordi tutto a parte stavo morendo lo ho aggiunto ma poi poi lui io non rispondo ma poi magari mi fico tutto non sì non mi dite così ti dai te ti dite dai dai br nooooo nooo ma vabbè non è vabbè ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto quello che non è è strano l'olio si è ancora e non è vabbè ma quello che non è è top una tagliata una tagliata aspetta aspetta ma guarda la mia voce si si possibilmente possibilmente anche mamma mia possibilmente trasparente la nostra cosa è un po' di e poi fanno così aspetta aspetta no no e poi la metto e poi la metto non lo so ragazzi la mettiamo in questo va a vedere? deve essere dura io amo il nostro scotch ma aspetta aspetta qua io amo il nostro scotch guarda io sai che sai che sai che non lo so 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 che non lo so non lo so non lo so Ci siamo hanno fatto un po' di tutti i altri. E la città è il tempo di più. La mia è contigo. Ecco qua. Non si muovono il rumore. Non si muovono. Non si muovono. Alla via il vero, non si muovono il rumore. è infatti guarda ragazzi guarda che fa b guarda i jumpy 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 guarda i jumpy